Vediamo ora quali sono i filtri che possiamo utilizzare per l'elaborazione delle immagini con Iris. La prima serie di filtri che vorrei farvi vedere sono quei filtri che effettuano una sfocatura delle immagini, agiscono tutti nel dominio dello spazio e tutti questi filtri vanno, come si diceva prima, a fare che cosa? Sostanzialmente a disperdere i punti più luminosi verso i pixel circostanti, entro un certo raggio, quindi noi possiamo decidere quale sarà questo raggio di azione dei singoli filtri. Per esempio un classico filtro passa basso, si chiamano anche così questi filtri, è il filtro Blur. Vediamo cosa succede applicando all'immagine un filtro Blur, vediamo che piano piano l'immagine tenderà a... sfocarsi e che siamo andati soprattutto ad agire sulle parti più basse che risultano leggermente più morbide, l'immagine complessivamente risulta, magari facciamola vedere un pochino di più, ecco, risulta, ci sono ancora diversi gradienti, risulta leggermente più morbida rispetto a prima. Ecco, vediamo senza filtro e invece cosa succede con l'applicazione del nostro filtro. Ecco, in questo caso noi stiamo decidendo qual è il raggio di azione del filtro. Bene, un altro filtro molto conosciuto è il filtro gaussiano. Anche qua noi possiamo andare a indicare quale sarà l'applicazione del filtro gaussiano. Qua utilizzeremo come raggio 1, quindi questo filtro, come vedete, sfoca molto di più l'immagine, può essere usato per ammorbidire le immagini, in genere non si usa mai, per esempio, con valori così alti come 2, piuttosto che sì, l'immagine sembra risultare più morbida, ma è anche, come vedete, peggiorata fondamentalmente. Ora riapriamo la nostra M51, torniamo a 4000 per mostrare i difetti dell'immagine e di nuovo proviamo ad applicare, per esempio, un filtro gaussiano, però per ridurre esclusivamente il rumore, quindi usiamo, per esempio, un valore basso come sigma 0,7 e non abbiamo deteriorato di molto i particolari, in compenso abbiamo leggermente ridotto il rumore. Qua vediamo che l'immagine ha un sacco di gradienti comunque. Bene, riapriamo di nuovo la stessa immagine e vediamo ora l'applicazione di un altro filtro, che è il filtro adattivo. Come abbiamo visto, per il filtro gaussiano, cioè aumentando quello che è il raggio di azione, aumenta anche la sfocatura dell'immagine e il suo ammorbidimento. Questo filtro è anch'esso un filtro che in parte produce una leggera sfocatura dell'immagine, ma soprattutto serve per ridurre il rumore e diciamo che tenta di mantenere i particolari sulle luci alti e dice soprattutto sulle luci più basse. Vediamo, per esempio, applicandolo con un valore di sigma uguale, cioè del rumore uguale a 5. Sì, come vedete, ha semplicemente leggermente ridotto il rumore, ma non di molto. Proviamo a aumentare questo valore, per esempio, a 15 e vedere che cosa succede. Ecco, anche qua, come vedete, l'applicazione del filtro si va in parte per tentativi, volendo si potrebbe provare a misurare qual è il valore di sigma nell'immagine e andarlo poi ad applicare al filtro adattivo. Ecco, sigma qua addirittura mi dà un valore intorno a 256. Proviamo a vedere cosa succede utilizzando questo valore, 256, se andiamo a ridurre il rumore, che cosa succede? Ecco, in parte il rumore si è ridotto, ma qua comincia anche a perdere particolari l'immagine. Abbiamo sempre i soliti gradienti fastidiosi di cui si parlava prima, che non siamo riusciti a togliere completamente nella prima fase della rimozione dei gradienti, almeno in questa immagine, visto che è stata usata solo come immagine esempio. Bene, poi Iris ha anche un filtro che è molto molto efficace per ridurre il rumore e uniformare il fondo cielo. Ecco, io però vorrei farvelo vedere magari applicandolo solo a una parte dell'immagine, perché altrimenti risulta troppo grossa e quindi diventa lento poi l'applicazione del filtro. Bene, chiamiamola questa qua M51 crop. Ok, ecco, vediamo cosa succede applicando questo particolare filtro. Si chiama filtro selettivo gaussiano. Ecco, in che cosa consiste? Ecco, qua il filtro viene applicato solo ed esclusivamente a quei pixel che hanno un valore di luminosità al di sotto di una certa soglia che noi scegliamo. Quindi andrà ad agire solo ed esclusivamente sulle parti basse dell'immagine. Diciamo che noi cercheremo di farlo agire sul fondo cielo. Ecco, per esempio usiamo un valore di 200 e gli daremo come raggio un raggio spinto come 5 o anche di più, perché ci serve proprio per uniformare, quindi vogliamo togliere il rumore, cercando però di non andare a intaccare quelli che sono i particolari dell'immagine. Ecco, vediamo che cosa succede ora applicando questo filtro. Iris logicamente eseguirà questa operazione per tutte e tre i canali colori, quindi non è velocissima questa operazione, per questo ho scelto di farvela vedere soltanto usando una porzione dell'immagine, perché altrimenti sarebbe stato molto molto lungo il processo eseguito da Iris. Ecco, siamo all'ultimo canale, per cui non ci resta che attendere e vedere il risultato di questa operazione. Bene, quei valori che abbiamo scelto sono eccessivamente spinti, abbiamo scelto un valore di soglia troppo elevato, 200 è decisamente troppo elevato, perché sì, in fondo cielo si è ammorbidito molto, ma siamo andati a perdere anche molti particolari della galassia. Quindi, riproviamo per esempio, usando un valore decisamente meno spinto, come potrebbe essere il 90, e vediamo cosa succede applicando il filtro, abbassando quindi la soglia, cioè cercando di non applicarlo a quella parte dell'immagine che è interessata dalla galassia, e quindi senza andare a perdere i particolari che hanno dei valori di luminosità più alti del fondo cielo. Vediamo ora se con questo valore va meglio. Ecco, siamo passati appunto da 200 a 90 come valore. Bene, di nuovo il valore forse un pochino troppo alto, bisognerebbe anche qua andare per tentativi fino a trovare effettivamente quale potrebbe essere il valore migliore da applicare per ottenere il risultato desiderato. Proviamo 5,20 a questo punto, giusto così per vedere che succede. Abbiamo davvero abbassato moltissimo la soglia, ma effettivamente qua dobbiamo usare delle soglie molto basse se non vogliamo andare a compromettere anche il soggetto ripreso, quindi perdere dei particolari. Si tratta in effetti di ridurre solo il rumore senza intaccare i particolari. Ecco, qua va decisamente meglio, forse si poteva usare una soglia un pochino più alta, anche qua bisognerebbe andare per tentativi, ma decisamente la nostra immagine, almeno in fondo cielo, si è ammorbidito rispetto a prima. Ecco, rimane il solito problema dei gradienti, ma questo andrebbe risolto rimuovendoli completamente.